Gli handbikers sardi hanno dato vita al prologo dell'arrivo della prima tappa del centesimo Giro d'Italia. Uno spettacolo nello spettacolo. Il nostro portacolori Giovanni Achenza ci ha rilasciato un'intervista a fine Kermes. Abbiamo fatto una passeggiata più che una gara. La gara speriamo di farla il prossimo anno dopo questa organizzazione che riescano ad organizzare una gara del Giro d'Italia o un altro evento del genere per poter essere almeno competitivi. e quindi sprigionare i cavalli che abbiamo sulle braccia. Speriamo che quella curiosità di queste persone passi attraverso i ragazzi che hanno in casa loro perché tanti hanno dei parenti, dei cugini, dei fratelli, così via, che magari non hanno il gusto di fare lo sport che facciamo noi. E quindi gli danno un bel segnale per potersi avvicinare a far sport.